Siamo il senatore, come se lo spiega questa uscita del presidente Amato? Non me la spiego, sotto giuramento ha testimoniato cose diverse, molto generiche, poi a un certo punto ha deciso di fare questa intervista. Poi ha fatto una lettera a Repubblica che sostanzialmente ridimensiona l'intervista. Poi ha fatto una conferenza stampa ieri che a parte ovviamente il trascorrere del tempo, che riguarda anche me, se prendo una mia foto di cinque anni fa mi troverà peggiorato, a parte come trascorrere del tempo. Non ho capito neanche ieri cosa ha detto, perché ha detto e ha smentito. Ha sbagliato su Craxi, con quale ha fatto una vita insieme. Sinceramente non ho capito. Se conoscessi i familiari gli farei una telefonata, ma non conosco la famiglia Amato.